Ora io do la parola a Mario Baldassarri, economista ma anche voce di Radio Radicale per la sua intervista rubrica delle 11 del lunedì mattina che io ascolto molto molto spesso, non solo apprezzo ma credo che sia quella un'opera di conoscenza resa, donata agli ascoltatori di Radio Radicale e credo che debba essere salvata con la radio anche questa preziosa pillola insomma di conoscenza che Mario insieme a Claudio Landici somministrano ogni lunedì mattina. Dopo Mario Baldassarri parla a Flavia Fratello, volevo chiedere a Rita se voleva chiudere questa mattina oppure andiamo nel pomeriggio? Benissimo, quindi ci sono altri due interventi, quello di Mario e quello di Flavia e poi ci faremo una pausa di un'oretta. Mario. Grazie Sergio e parto proprio da qui perché più di quattro anni fa con Alessio Falcone e Claudio Landi abbiamo pensato di fare una rubrica settimanale e stavamo ragionando sul nome da dargli, sul titolo, ovviamente siamo partiti subito con conoscere per deliberare, Luigi Einaudi, però poi ci siamo chiesti ma conoscere che vuol dire? E abbiamo concluso con capire per conoscere che è appunto il titolo di questa rubrica. Allora questa riflessione comune di questa mattina a mio parere deve portare ad una conclusione molto concreta operativa, cioè quella di capire che cos'è Radio Radicale. È stato detto da tanti, è servizio pubblico vero, è memoria della Repubblica, è archivio, è conoscenza su varie tematiche, poco fa è stato detto è conoscenza della rassegna della stampa africana, americana, turca, europea, eccetera, quindi su questo non aggiungo altro, cioè è servizio pubblico. Aggiungo solo un piccolo aneddoto personale, vedete come tanti di noi i figli bravi stanno tutti all'estero e anche io ne ho una con tanto di nipotini che vive da dieci anni a New York con i nipoti ovviamente bilingue, doppio passaporto, passaporto americano, arrivato dopo 48 ore dalla nascita, quello italiano due o tre mesi dopo, però hanno il doppio passaporto. Quando vengono spesso in Italia io vado là, quando vengono in Italia io vado a prendere l'aeroporto. Ovviamente salgono in macchina un po' addormentati perché hanno fatto la nottata in volo e sentono questa strana radio che il loro nonno ci ha sempre accesa dentro la macchina. e un paio d'anni fa, quindi avevano 7-8 anni, un paio d'anni fa mi fanno, ma nonno, ma questa è radio PBS? Che mi sorprese, perché? È perché si parla solo, non c'è la musica, non c'è la pubblicità e quindi dovetti spiegare ai nipotini che sì, era la versione italiana di quella che loro conoscono come radio PBS, cioè Public Broadcasting System. L'unica voce pubblica che nel mercato dei media americano, piena di offerte, canali da tutte le parti, via cavo, via internet, via parabolica, ma la PBS, se volete per chi non la conoscesse, è quella che ha inventato a Boston 40 anni fa Sesame Street, cioè i cartoni animati un pochino più intelligenti per i bambini, ecco questa è la PBS. Mi è venuto un dubbio, ma forse bisogna vivere a New York per capire al volo ascoltando il ruolo di Radio Radicale? Perché? Perché capite che mi ha sorpreso molto questo fatto, mi ha ricordato la vecchia favola, e cioè occorre ancora un bambino ingenuo, ma anche acuto, che dica il re è nudo? Ecco, questo è il Radio Radicale, è quel bambino ingenuo che di fronte a tutti i gas soporiferi di tutta la comunicazione continua a dire, ma guardate che il re è nudo e gli si vedono le vergogne, se vogliamo aggiungere qualcosa di più piccante. Allora, per farla breve, poiché non sono un tuttologo, perché ormai i tuttologi sono quelli che sono ospiti fissi in tutti i talk show televisivi, per cui un filosofo parla di ponti, autostrade da ingegnere e un architetto fa l'analisi costi-benefici. Ecco, li lasciamoli là. Io sono un modesto economista di campagna, che però, con pizzico d'orgoglio, sa far di conto e conoscere tabelline. Non sorridete, perché se guardate in giro, la conoscenza della tabelline è un degradata anche in eminenti rappresentanti politici che confondono milioni con miliardi come se fossero noccioline. Allora, tre ragionamenti rapidissimi da economista. Primo, da economista so, sin dai padri fondatori dell'economia moderna, da Adamo Smith a Giovanni Mainardo Keynes, come lo tradusse la UTET nella prima edizione della sua volume, perché bisognava tradurre anche i nomi degli autori in italiano. Io ce l'ho a casa. Edizioni UTET, teoria generale di John Mainard Keynes, ma scritto Giovanni Mainardo Keynes. Vecchi ricordi, voglio dire. Ecco. questi padri avevano insegnato, parlo di due secoli, due secoli e mezzo, non ieri, che la differenza profonda tra uno stato liberale, uno stato di diritto e uno stato totalitario sta in un concetto, tra tante cose, in un concetto profondo. E cioè che in entrambi si tende a distinguere i beni privati dai beni pubblici. Se ripercorrete anche la storia del secolo scorso del socialismo reale dell'Unione Sovietica, rileggete esattamente queste cose. Dove sta la differenza tra uno stato liberale, quindi stato di diritto, è uno stato totalitario, non nella definizione di bene privato e bene pubblico. Un panino sarà sempre un bene privato. Sta in questo. E cioè che nello stato liberale la definizione di bene pubblico non coincide con il produttore, ma è riferita al bene, all'oggetto che viene dato ai cittadini. Viene dato un servizio pubblico, un bene pubblico. Mentre la mistificazione dal marxismo-leninismo alla realtà socialista dell'Unione Sovietica è quella di dire se esiste un bene pubblico solo lo stato lo deve produrre, facendo quell'equazione automatica che se lo stato produce bene pubblico, comunque il cittadino ha un servizio pubblico, cosa che è assolutamente non vera in tantissimi casi. Ecco allora qual è la chiave, e cioè la linea di demarcazione tra lo stato liberale, lo stato di diritto e lo stato onnipresente, sovranista, totalitario, stalinista. Allora qui non è in gioco semplicemente radio radicale in quanto tale, è più che altro in gioco il ruolo dello stato, o meglio, di coloro che si appropriano dello stato e il loro rapporto con i cittadini. Quindi Radio Radicale è l'emblema di questo scontro forte in atto, che non a caso viene subdolamente bypassato attraverso sostanzialmente il dilagare dei social network, dove non c'è più controllo, non c'è più confronto e dove il controllo dei social network fatto dal vertice determina l'espressione di una volontà politica apparentemente libera, democratica, ma di fatto controllata dal centro, cioè un neostalinismo, neostatalismo. Basti pensare a quello che è avvenuto nei giorni scorsi e cioè che lo 0,5% degli elettori del Movimento 5 Stelle hanno dato un'indicazione ai loro rappresentanti in Parlamento e i rappresentanti in Parlamento si sono detti orgogliosi di portare in Parlamento la volontà dello 0,5% degli elettori e questa viene chiamata democrazia diretta. Questo è centralismo che contrabanda con i nuovi mezzi tecnologici per democrazia diretta una volontà di vertice dove uno conta molto più di tutti gli altri messi insieme. Questa è la sostanza. Allora chiudo con due verità, una è stata detta questa mattina da Renato Brunetta e un'altra ieri da Massimo Bordini. La verità che ha detto stamattina Renato Brunetta e che condivido totalmente, aggiungo solo dei numerini, sempre da economista ragioniere di campagna, è che la questione radio radicale, finanziamento a radio radicale non ha niente di economico, non ha niente di disponibilità delle risorse. Non è un fatto di dire non ci sono i soldi. La dimostrazione è lampante. 8 milioni di euro. Prendete carta e penna perché ho dovuto fare con la macchinetta. 8 milioni di euro rappresentano lo 0,00001% del totale della spesa pubblica e poiché la spesa pubblica è la metà del PIL, 8 milioni di euro rappresentano, ancora una volta carta e penna, 0,00005% del prodotto interno lordo italiano. Quindi non facciamoci prendere in giro. Il problema non è la disponibilità delle risorse, non è l'esiguità delle risorse disponibili. La seconda verità è su questo chiudo, se mi permettete con una proposta di marketing politico, è quella che ha detto Massimo Bordini. Se non è una ragione economica o finanziaria, palesemente, qual è la ragione vera? È che non si vuole che ciò che avviene dentro il Parlamento, ciò che avviene dentro le commissioni parlamentari, ciò che avviene dentro le carceri, ciò che avviene dentro i tribunali, ciò che avviene dentro i congressi e l'assemblea di tutti i partiti e dei movimenti, non si vuole che tutto questo venga trasmesso direttamente ai cittadini. Ecco allora, si vuole impedire, questo è l'obiettivo politico, si vuole impedire di capire per conoscere e per poi decidere consapevolmente a chi dare eventualmente il consenso politico. Questa è la verità che ha già illustrato molto bene Massimo Bordini, ma che io rileggo da economista cittadino. E quindi se questa battaglia di costoro va a buon fine, significa esattamente che il primo punto che ho citato è la differenza tra lo Stato liberale e lo Stato totalitario, che è proprio lì il punto, si chiude, si rovescia fine dello Stato liberale e prevalere di uno Stato totalitario nuovo, moderno, apparentemente tecnologico, quel che è, ma che se spezza la radice, il nesso capire per conoscere, per decidere come cittadini, lo spezza la radice e ovvio che riassegna il potere decisionale ad una congrega oligarchica, più o meno autoreferente, che guida l'opinione, la formazione, anche dicendo le più grandi corbellerie per le quali tutti i mass media fanno da megafono. L'ultima l'ho sentita ieri sera, e cioè che si è detto per esempio, poiché la Torino-Lione costa 7 miliardi, meno 7 è il risultato di quella fantasmagorica analisi costi-benefici, prima di qualunque base scientifica, ma questo ne riparleremo altre volte, l'ho illustrato la settimana scorsa, lunedì scorso su Radio Radicale, su Capire per conoscere, dice no, noi dobbiamo decidere quei 7 miliardi se farci le scuole, gli ospedali, altre cose o altre strade, o le giravolte o le girotonde, cioè questo è fuori da quella che da due secoli si chiama analisi costi-benefici. L'analisi costi-benefici è fatta su un progetto, valuta i benefici e i costi di quel progetto e ti dice se vale la pena o non vale la pena, non è un confronto tra progetti alternativi. Ora capisco che l'architetto che ha suggerito questa cosa metta in bocca alla rappresentante politica che va ai talk show questo tipo di interpretazioni, ma di fronte a questo tipo di interpretazioni c'è il silenzio più assoluto, il nostro grande nemico è il cordone di silenzio assordante con il quale si contorna e si cerca di sopire la voce libera di Radio Radicale come emblema di uno Stato liberale e di uno Stato di diritto. proposta banale, concreta, ma è venuta mentre stavo ascoltando. Visto che siamo alla ricerca di come comunicare questo nostro modo di essere, questa voglia di contribuire a non a salvare ma addirittura ad ampliare la voce di Radio Radicale, visto che siamo in clima di carnevale, io proporrei di aggiungere una marionetta alle tante maschere italiane classiche, tradizionali, Balanzone, Arlecchino, Pulicinella eccetera, e sarebbe la nuova maschera di Radio Radicale che è fatta così, una banda con scritto Radio Radicale ed una benda sulla bocca e basta. Questa è la nuova maschera con la quale dovremmo partecipare tutti a qualunque tipo di carnevale ci sia nelle prossime settimane. Grazie. Grazie a te Mario. Una banda e una benda ricorda molto quella opera d'arte della comunicazione politica che è stato il bavaglio.